Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo in via Fratelli Rosselli, precisamente presso la pinetina di via Fratelli Rosselli a Taranto e alle spalle di via Galileo Galilei nei pressi di una stazione di rifornimento carburante. Bene, circa un mese, setto e mezzo fa, è avvenuta l'opera, l'azione di potatura degli alberi, si sono accumulati tutta una serie di rifiuti, di rami secchi, foglie, tronchi e quant'altro. Bene, è trascorso un mese e mezzo ma l'amministrazione comunale, l'AMIU in particolare, non si sono affatto degnati di rimuovere, di far rimuovere questi rifiuti. È un fatto davvero grave, dimostra proprio un'inerzia dell'azione amministrativa del nostro ente civico o del suo braccio operativo, qual è appunto l'AMIU. È assurdo che contestualmente non si proceda alla rimozione di quanto è stato potato. A quanto potato, a quanto tagliato si accumulano i vari rifiuti, buste di plastica, altro materiale di plastica, cartacce e quant'altro, beh, ci rendiamo conto di come la miscela, per così dire, sia davvero esplosiva, senza considerare poi che d'estate basta un mozzicone di sigaretta e si scatena un brutto, un pericolosissimo incendio. La verità, signor sindaco, è che l'AMIU non funziona, non funziona da decenni, si cambiano i presidenti, si cambiano gli amministratori, ma manca la programmazione. Signor sindaco, l'AMIU va rivoluzionata, lo vuol capire o no? Grazie per la visione!